Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di KuroNada3 Oggi sono qui con Rainbow Sixie Edge Per farvi due partitelle, anzi Vediamo un attimo come prosegue una E poi a seconda di come gira la prima Andiamo sulla seconda Adesso non mi ricordo come sta girando la connessione Ah, ok, tornate di nuovo stabile come al solito Lasciamo perdere sto net moderato Che sul Rainbow è fisso su moderato Non chiedetevi motivo E niente raga, partiamo subito e vediamo cosa ci esce Come prima partita Eccoci ragazzi, allora Siamo già in una partita incominciata Quindi non possiamo neanche entrare dentro Andiamo a guardare cosa fa Anzi, neanche ve li faccio guardare ragazzi Partiamo subito col primo round Eccoci ragazzi, allora dobbiamo difendere mi sa Sì, forse sì Andiamo con Mute Io prendo Mute ragazzi Mi piace molto anche Doc, però preferisco Mute Allora, la cosa buona di Mute È che c'è 4 jammer che servono per bloccare Quei, quelle specie di piccole telecamere Che si muovono e vanno a trovare il vostro obiettivo Le vostre bombe, il vostro ostaggio, eccetera Bomba, bomba del cazzo Tutte le bombe Vabbè, comunque si andiamo con Mute E nada Abbiamo anche preso Jagger Che è una bomba Poi ragazzi non ho ancora acquistato nessuno dei personaggi Vediamo un attimo cosa succede Allora, l'arma non mi fa impazzire, vi dico la verità Pizziamone uno qui Pizziamone uno qui Ok, uno Pizziamone due qui Poi ne piazziamo uno qui Ma qui non serve a niente ragazzi Qui non possiamo arrivare In teoria Ok Mettiamo uno qui Dai piazza Piazza Ok E te ci siamo Perfetto Adesso rinforziamo un attimo le stanze Vediamo cosa riusciamo a combinare in questa partita Qua la cosa più importante sarebbe giocare con i compagni Però purtroppo non posso parlarci Quindi è un problema Siamo riusciti a tenere il contenitore nascosto Sono individuato Vaffanculo Piazzato il dispositivo Granata ADS attivo in questo settore Attento zio Dai BOOM BITCH C'è il mio compagno Quindi sicuramente sono qui Ammattons Merda Coglione Grande Vai 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 Secondo Via 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 Ma lo prendi? Oh Adesso facciamo un bel giochino a questi stronzi Ma no Basta Uh Lama d'Ous Stava volando ragazzi Bravo Questo mi ha inculato ragazzi Ripreso del secolo Stava per cadermi il telefono Cristo santo Vai Vai Andiamo Ci siamo di nuovo Stavo per volarci tutto E vinciamo raga La seconda La seconda è vinta Andiamo con la terza Vediamo cosa riusciamo a combinare Il curretti fa già due kill Oh raga Buono dai Ci siamo giocati abbastanza bene A parte il telefono che mi stava per finire addosso Però Ho riuscito a salvarlo in corner Dai che qui giù Dai che voglio fare punti Qui Via Invece no Ho sbagliato Invece era giusto quello che avevo pensato all'inizio Come se riusciamo a bucarli subito Si stronzi Via Papp 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 Oh via Esci di nuovo Testa di cazzo Caricattiva Ma cosa Mi ha tirato un colpo Ma vai a cagare T-Noise Ma vattene a cagare Vediamo come mi ha ucciso Eh fanculo Un operatore alleato rimatto Vai questa è persa ragazzi Ragazzi dai cambiamo Io vado con Jagger Vediamo cosa riusciamo a combinare con Jagger Vedete un altro molto forte è Kapkan Che ovviamente uso poco ormai L'ho usato all'inizio E poi l'ho mollato Sotto consiglio di mio amico E sinceramente è molto forte Perché ha Ha la cosa buona Di poter mettere le bombe Prima delle porte Cioè vicino alle porte Quindi uno ci passa e muore Allora siamo già stati individuati Quindi c'è qualche drone di merda Ok Bastava distruggere questo Ok Distrutti Li ho distrutti Quindi dobbiamo muoverci con questi Con l'impiazzamento Di questo Uno Ok Prima è fatto Andiamo col secondo qui Sì ancora Terzo Via Usa il manichino ragazzi Per coprirmi Cambio caricatore Uno ucciso vai Dio mio Sento passi Sento troppi passi ragazzi Dai Ma ragazzi L'avete visto anche voi Dai Che stronzata L'ho sparato prima io Sì certo 120 di danno Io l'ho sparato Niente Danno zero Amados Andiamo una mano A nostri compagni No che lo riusciamo a vedere Sì Tutte le telecamere Ormai siamo incurati Ma sei un minchione Cazzo Sei un minchione Dai ragazzi Che palle Oh Andiamo Allora Prendiamo un pochettino Dove si trovano Trovato Eccolo lì Allora C'hanno i jammer Sti bastardi Ma no Ma no La matouse Oh via Ma quella è ancora fuori Cioè ragazzi Ho veramente Rimangato il vito A sta gente Allora Andiamo Al contenitore Di biorrischio Va Bravo Continua a sparare I nostri compagni Così moriamo E perdiamo anche la partita Vai A passare Peccato che l'abbiamo rinforzato Nessuno Guardiamo su Dai via 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 Qui dal nulla esplode un'altra bomba Vabbè Che c'è un nemico qui? Ma perché? Cosa ho distrutto? Cosa ho distrutto? Vai lì dentro Dai Ho ragione Brutta merda Almeno ce l'ho azzeccato Sono stato individuato da cosa? C'è una telecamera qui in zona Cosa? Via 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 Qua sto buffo Non c'è nessun punto dove poter bucare il terreno? No Ti metto a dare una mano raga Attenti lì Esci pezzo di merda Cosa? Ah ok ok Minchia No Cosa ti Ma ragazzi Ma che cazzo di gadget sto distruggendo? Libero Si va in onda Zio Grazie Grazie Dai Fagli il culo Zio Voglio vederti fargli il culo Vai Ma no Ma no Ma no Ragazzi Dai Che sconfitta del cazzo Ma cosa mi conviene Voi lo fa 0-4 La madonna Oh Da tre stronzi Siamo stati uccisi raga Ma ve ne rendete conto? Vabbò Vabbò Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Vi iscrivetevi Vi commentate Mettetevi mi piace Sicuramente l'avete apprezzato Se volete una serie su Rainbow Six Siege Ditemelo pure E niente raga Ci vediamo alla prossima Bella Ciao 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 Ciao